Il nostro ospite è il dottor Roberto Rimondi, responsabile Unicredit per Confidi e Associazioni. Grazie per essere con noi. Come vede il rapporto Banca-Confidi? Indubbiamente è un rapporto che ormai potremmo definire strutturale tra la Banca e i Confidi, perché ormai è entrato nella consuetudine della rete commerciale. Certo, è un rapporto che indubbiamente risente molto della situazione economica del Paese. Da un lato c'è una forte richiesta di garanzie, dall'altro indubbiamente i Confidi risentono dei problemi del deterioramento del portafoglio e di carenza di capitale. Il Confidi è una rete di vendita della banca o è la banca la rete di vendita dei Confidi? Bella domanda questa. Di norma viene sempre posta. Guardi, io non la vedo in questi termini, a maggior ragione nel momento in cui una banca come la nostra ha 4.200 sportelli o il 30-40% ormai dell'attività passa tramite i canali telematici. Io vedo più che altro un tema di integrazione, ovvero sia di scambio di informazioni, di conoscenze e di servizi. Certo, va anche detto che è molto difficile creare questo tipo di relazione così intensa da parte dei Confidi con tutte le 40-50 banche che sono in relazione, ma anche da parte delle banche nei confronti di 300-400 Confidi. Indubbiamente andremo verso un aspetto di autoselezione, credo. Perciò in futuro continueranno ad esistere i Confidi, le relazioni con i Confidi o in qualche modo ci sarà qualche variazione? Guardi, dobbiamo essere assolutamente onesti in questo momento perché è un momento di difficoltà. Intanto credo che sia da accogliere con molto favore quanto è stato inserito recentemente nella legge di stabilità, ovvero sia la possibilità di ricapitalizzare i Confidi da parte del Fondo Centrale. Credo anche che si debba intervenire come un aggiornamento di carattere normativo sulla legge quadro, quella del 2003, che credo abbia bisogno veramente di una manutenzione. Va anche detto che il mondo dei Confidi, che già si è mosso in tal senso, comunque debba ancora percorrere un pezzo di strada, soprattutto in tema di riduzione dei propri costi operativi. Pensi che ancora ora l'80% del margine creato da un Confidi è assorbito dai propri costi operativi, non dai costi dei rischi. Detto questo, se è stato creato un piano nazionale di garanzia che darà la possibilità di erogare 60 miliardi di euro di nuovi impieghi per pubblico e privati, beh, ho veramente molta difficoltà a pensare che non potrà continuare ad esserci un ruolo attivo del sistema Confidi. Grazie.